Noi meritavamo di vincere questa partita, per quello che abbiamo espresso i ragazzi hanno disputato una grandissima partita. Poi purtroppo paghiamo sempre qualche errore, un errore dovuto anche all'inesperienza della giovanità che abbiamo. Nelle occasioni che ci sono capitate dovevano essere molto più concreti. L'Ancona credo vada a Pesaro e noi andiamo a giocarcela a Montevarchi, per l'obiettivo è il sesto posto, ma era quello che cercavamo anche già questa sera, i punti per mantenere quella posizione.